Quale sorte per l'ospedale Barone Romeo di Patti? Su questo argomento il circolo del PD di Patti è organizzato per giovedì 16 luglio alle ore 15 sulla propria pagina facebook un talk di approfondimento. Mentre in perversa ancora l'emergenza sanitaria il PD di Patti è ritenuto opportuno conoscere le condizioni in cui versa l'ospedale e soprattutto quali siano le possibili strade da percorrere affinché l'ospedale ritorni ad una centralità ad un'efficienza esemplari. Il confronto sarà con il deputato regionale del PD Franco De Domenico componente della commissione sanità dell'ARS con Maura Quino sindaco di Patti a capo del distretto sociosanitario di 30 e col dottor Pietro Strino ortopedico presso il Barone Romeo. Si discuterà anche delle difficoltà riscontrate in ambito burocratico politico e amministrativo che attanagliano l'ospedale pattese per cercare di individuare suggerimenti e proposte per mantenere vive e attiva l'attenzione sulla sanità pattese. L'evento sul nostro ospedale è un'occasione per aprire il PD alla città e ai suoi problemi ha dichiarato Armando Di Carlo coordinatore del circolo di Patti. Nell'ottica di un progetto di apertura e di confronto invitiamo non solo gli iscritti al partito ma tutta la cittadinanza a partecipare e a commentare l'evento.